... ha commistato 6 scritti da liceo, ciò che è già uno stesso anno avanti, e quindi è un triunfo, come è stato allenato, questo stisente, ma dopo il matrimonio, è stato preso un fascino, come questa, un allenatore che è un scorso, sono stati decimisti, sono sussurati, hanno avuto mille idee, mille tanti, e oggi è toccato il studio, e facciamo una cosa, e qui spieghiamo a ascoltare, e gli dici che dice, in effetti l'ansiena è riuscita a pulire la difesa, limitava soltanto una volta, due due che erano centrali, in quello che ha spettato Gianni, a Sardegna, un grande assist, per la Rottenlord, ecco il duello tra Samargo Samuels, l'Utto e Loander, in una finale che hanno visto i protagonisti, i grandi cip che erano pronti, spariti su uno di questi, nelle ultime e le finali, la grande difesa, e non riesco a entrare a farlo, non è regolato.